Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo. L'anticiclone sovrasta tutta Italia e tutto il Mediterraneo lo farà anche nei prossimi giorni. Sola d'inizio prossima settimana una leggera flessione della pressione al nord dell'Europa centrale che quindi permetterà l'ingresso di aria più instabile atlantica che darà luogo ai temporali però sempre in un contesto molto caldo. Per quanto riguarda questo sabato poco nulla da segnalare, non ci saranno grandi differenze del tempo rispetto ai giorni scorsi. Tutto l'Abruzzo sarà dominato dal sole, qualche densamento pomeridiano in montagna però non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi. Al più qualche breve scroscio di pioggia di brevissima durata. Le temperature molto alte per il periodo, svariati gradi oltre le medie stagionali su tutta la regione, massime fino a 37 o 38 gradi nei settori interni. Anche in montagna farà particolarmente caldo, minime tra i 22 e i 28 gradi, valori praticamente tropicali anche in piena notte. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.